Ciao a tutti ragazzi, sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a una nuova puntata di Earth of Iron 4. Oggi spero che riusciremo a terminare l'episodio. L'idea è di attaccare United Kingdom, ma credo che siano rinforzati, rinforzati a dovere. Abbiamo circa 25.000 aerei con una serie di truppe che stanno scendendo. Circa 250 navi. Io ragazzi... Onestamente non so. Onestamente non ho idea. Ok, voi tenete. Perché qua c'è un problema di supply? Allora, togliamone uno, due... E questi... Mettiamo qua. Ok, meno così. Ah no, stanno sempre nel Cairo, quindi è un po' una stupidaggine questa. Ehm... Secondo... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Feedback... Ok, vai. Beh, allora, se mi manda... Se mi manda delle forze aggiuntive il Giappone... Quasi, quasi... Ma in realtà qua ho fatto praticamente tutto. Non c'ho più... Necessità di niente. Vale, le navi, ma... Dovrei costruire talmente tante. Potrei fare il fighter, vai. Ah, giusto, non c'è il jet. Beh. Scusa, eh. Ehm... È ok. Giusto, idiota. Ma arriveranno queste forze. Cioè, questo si schiera. Si schiera contro di me. No? Quando invece c'è da attaccare qualcun altro. Io non capisco. Ehm... Queste tanto non le possiamo utilizzare. Eh, perché... Non ci facciamo nulla di che in questo momento. I tank... Li abbiamo fatti. Potrei ricercare... Potrei ricercare questo. L'alternativa. Tutto qua? Queste sono... Questa ha 44 divisioni? Sì. E allora... Voi andate qui. Eh... Vediamo un po' il template di queste com'è. Bello. Mi è dato proprio un bel template. Wow. Questo. Questo. Cioè, ma... Siamo scherzando. Cioè, tu mi hai dato questo per attaccare... Questo è quello che tu mi dai. Ah, vabbè no. Ok. Qualche cosina di decente ci sta. Eh... Mettiamo un altro cinque qua. Non abbiamo più niente. Eh... Ehm... Ehm... Eh... Ehm... Eh... Il problema... Ehm... 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 Perché col fatto che... Col fatto che non siamo... Allora... Che mi posso fare? Questi? Facciamo così. Facciamo così. Vai. Mettiamo le dieci. Eh... Oh, li proviamo a tirare la nuke. Proviamo a tirare la nuke in testa. Ok. Boh. Forse potrebbe essere... Un'idea. Fare le navi. L'unica che potrebbe essere interessante è questa. E a questo punto una console dei comandi? Assolutamente no. Eh... Forse una volta ricercata quella con la nuke possiamo provare... A effettuare... Ecco, magari qua. No. Ah... Ok, sì. Ok, facciamo così. E proviamo ad attaccare più punti. Magari riusciamo a passare. Il problema è qui. Ok, non riusciremo mai a passare. Oh, mai, mai, mai. Ok. Come andiamo con il... Ok, qua andiamo bene. Ok. Qui si sa unipara. Certo, il controllo aereo. Ma quando... Ma quando lo vinco il controllo aereo? Mai. Mai proprio. Allora, fermi tutti. Potrei anche fare questo. E dire a questi param... Di diventare così. Eh, no, sono troppi. Niente. Andiamo così. E speriamo che... Che vada bene, ragazzi. Un attacco estremo, ma... Allora. Queste... Devono ancora arrivare. Dove stanno? Qua giù. Mi preoccupa che questa Germania non... Non provo a far nulla. Vabbè, sono tutte su Londra. Io non ho neanche modo di... Di usare... Dovrei... Dovrei lasciare il Giappone ed entrare a far parte dell'assimo. Da poter utilizzare... Da poter utilizzare la loro... Però questo c'ha 5000 aereo e questo ha 7000. E io c'ho 3000. Quindi tutto sommato... È un po' un attacco suicida. Ovviamente non lo posso fare, mannaggia. Del carn. Allora. Lasciamo questo. A sto punto? Nonostamente le nuke, regà! Non mi ricordo benissimo come funzionavano... Non l'avrò tirate forse un paio da quando ninguna verso Viron. Non è che ne ho tirate un'enormità Qua abbiamo pure l'abilità per i para Allora perché uno potrebbe andare Tutti sui porti Uno, due Dove? Ok Vai qua Scusate Allora tu vai qui Ah certo i para Da dove li butto però sti para Non so se ce la faccio a fare così tanto i para Non credo E qua c'è un carro Vieni qua Anche se in realtà potrei Vabbè la Spagna qua sta conquistando Quindi a posto Sto carro che ci fanno Non lo so Per ora metti di là Allora voi dovete assolutamente cambiare colore Mettiamo questo Allora Allora Siamo in realtà di tutti? Sì Quante Mi serve 56 giorni Eh pure gli anfibio non erano una brutta idea per fare lo sbarco Ok questo è capitolato Eh niente Mi rimane da far solo questo Proviamo Proviamo così Ehm Ok Manca il sud Africa che a breve cade Vabbè Vabbè queste stanno cadendo tutte Eh ragazzi ci manca solo la United Kingdom Allora quanti me ne faceva caricare questa? 100 Perfetto Quindi sono 2, 4 Sì ci siamo Ci siamo Ci siamo Certo il controllo qui Non lo prenderemo mai Mai Ma proprio mai Cioè dovremmo andare con tutte le nostre navi Sperare Di un attacco Senza nemmeno una Una battleship Qualcosa di un po' più grande Quasi ci sono provate di entrare Davvero Allora Allora Qua ti diamo un generaletto Stupido Uno qualsiasi Dov'è qua E ti diamo un altro generale Che so Finiti Ma le prendiamo uno nuovo Vai E Sì Facciamo Facciamo così Ok Il fatto che tu abbia provato a entrare È molto positivo Sganciamo pure loro Vabbè Aspettiamo Quanto c'è tempo Ma tra l'altro Non so neanche se lo posso fare Ok Rocket Abbiamo fatto Vai 05 al giorno Per fatto Ehm Eh infatti non mi fa Perché non mi fai paracadutare Tra l'altro Ma forse perché non c'è I transport Allora Ehm Transport Dove stanno Ok Solo che questi Non c'hanno Tanto range Non ci arrivo Infatti E niente Immaginavo Mi devo alleare Per forza Con 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 loro Perché non ho accesso Non stanno nella stessa situazione Non ho accesso Quanto mi manca Per questo Ah ma stiamo in pausa Mi dovrei alleare con loro Sì Per avere accesso A A parte che se c'hanno le truppe qui Vuol dire che a casa non c'è niente Allora Quindi Iniziamo a fare Uno Scusate Queste non le ho portate Cazzo Poi voi pure E ok Mentre voi Fate una linea qua Qua ci manca questo A questo punto facciamo le dute 94 Eh Questi para Questi para Non ci facciamo niente Il problema è che pure se mi mettessi a fare una battleship No Che tra l'altro è una vecchia Ci metterei davvero troppo Allora proviamo a buttare lei Il 49 esce Ma come faccio Esce nel 49 Dovrei farne talmente tante Di sti cosi E che ne faccio uscire tipo Un capitale Tutte insieme E allora Allora se la potremmo pure fare Proviamo così Eh Rocket No Questo è rocket Non mi interessa Facciamolo un paio però Così Giusto tanto per Questo non mi interessa Non mi ricordo se era lui che sganciava Sganciava le nuke Allora Allora io c'avevo un carro Da qualche parte Allora questo carro Vai qua Beh Allora se tanto perde queste divisioni È mica male Se queste qui le perde Se queste qui le perde Le ha perse Ok 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 c'è una nuke Ora Come cavolo si sganciava la nuke Perché io non me lo ricordo Non mi ricordo Come si sganciava la nuke Non me lo ricordo Eh infatti No ragazzi Non mi ricordo come si sganciava la nuke Allora La cosa più logica È di entrare È di entrare da loro Giappone Eh perché lui non me lo dà Il controllo di uno stato Che siamo in due fazioni diverse Perché se non erro La nuke C'aveva comunque Il suo Eh il suo raggio Non è che la potevi sganciare Da una parte e dall'altra E infatti Qua è sbagliata Perché la posso Eh no ragazzi Eh sì L'unica Forse Eh no neanche Perché la nuke Infatti Dovevo costruirlo Tra i siti di lancio Quindi la nuke Lì non la posso tirare Perché non c'ho Un territorio qua Eh sì Eh sì Eh sì O forse Ah ok Avrei andato Ma noi sciapiamo questo Quindi voi Andate tutti qua Questo lo cancelliamo E voi pure A questo punto Ehm Invasione navale Da qua Da qua E vediamo un po' Aspettiamo Sono molto Perplesso Allora Eh andiamo a tirar su una nave A questo punto Sub Battleship Vai Facciamo qualche Destroyer Vai Finiti E chiudiamo E chiudiamo E chiudiamo Eh sì Sta nuke È un po' È un po' Fregata Perché non c'ho Territori Qua Eh Stesso discorso Per i para Stesso discorso Per i para Mannaggia 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 22 24 L'unica è riuscire a entrare Prendere il controllo Ma Non riusciremo mai A entrare Quante truppe navali 20 20 70 Zero proprio Qua abbiamo fatto un errore Con Con le navi Carrier No Andiamo a Cruiser Che ci abbiamo Che ci può dare una mano Con le navi Questa potrebbe essere Veramente Proprio Una super Emergenza Navale Possiamo anche Cambiare lui Andiamo così Wow Nova Speed Andiamo a migliorare Gli armamenti A questo punto Proprio In rapidità Facciamo I torpedo Magari Abbiamo bisogno Di acciaio Lo compriamo Dalli Stati Uniti E qua Iniziamo a fare Qualche progetto Per ampliare Ok Quanto ci vuole Ancora Mamma mia Almeno Il 50% Di dove Mazzia Navale Uno Uno C'è Il numero C'è E solo Le navi Sbagliate So Veramente Veramente Sbagliate Tanti Sattomarini Anche Se forse Potrei Certo Sono quelli Piccoli Ah Si sta Riparando Perché Di che No Vai C'è Questa È la nostra Plotta Che è Praticamente Penosa Fatemi mettere Sottomarino Tutti Questi Vi tanto Non servite più Allora Qui dovete Andare Ottimo Come cavolo Ti chiami Se Mettiamo La flotta Oddio Dove sono Finito Allora No division Va bene Che andiamo A fare Ma Probabilmente Ragazzi Qua Cioè Non ha più Molto senso Proviamo a Concentrarci Anche su Le dotterine Prendiamo No Navalstrike No Prendiamo Quale capital Ce ne abbiamo Poche Andiamo con loro Ok F2 E qua Mettiamo Che Mettiamo A fare Proviamo Ma Il quanto Ci abbiamo Sempre un per cento Nove per cento Già stiamo Già stiamo Già stiamo perdendo Un po' Di navi Qua non passiamo No Devo lasciare Devo lasciare Il giappone Cavolo Non posso Eh niente Infatti Qua li stiamo Perdendo tutti Teniamoli via E niente Ragazzi Io credo Che Logicamente Mi hanno proprio Tirato Tutto Cioè Non c'è La propotenza Non riusciamo Neanche più A uscire C'hanno troppa Troppa Roba L'Irland Di chi è Sempre loro E se Facessi Anzi Se provassi A fare questo Fermi Che forse C'ho Un'idea Forse L'idea Mi è venuta Forse L'idea Ce l'ho Forse Forse L'idea Ce l'ho Quando ce l'abbiamo Dieci giorni Allora Proviamo a fare Questo Troviamo a fare Così Passi da qua Ok Ok Ma qua Ci hanno fatto Massacrato Quindi qua Non passerò Mai Però Se riuscissi A entrare Da qui Potrei Forse Ne Però Non ci sono Le freccette Che collegano Queste due Quindi comunque Credo che ho bisogno Sempre del supporto Navale Eh Sto rocket site Parecchio inutile Non lo posso nemmeno fare qua Infatti dovrei conquistare qui E farlo qua Questa potrebbe essere L'idea Per Tirare giù Tirare giù Londra Ui C'è Destroyer Ok Fa Quattro No Come si è equipaggiato Mamma mia Che schifo No Questa così Diventa Ivi Facciamo così Eh Anti-air Rimuovi No Facciamo la full light Anti-air Radar Secondaria Ah Non c'ho Ah Mannaggia Ok Voi mettete via Fare Navale Exercise 0.5 Cioè L'ordinante Niente Mi tocca andare Con le navi Queste così Non ho Alternativa Troppi pochi punti Anche voi Exercise Si stanno Riparando Magari Poi 154 Non si Possiamo inventare Nulla Torpedo Ok Ok Eh Le carrier Non ce la facciamo Facciamo le basic light Siete pronti voi Ditemi di sì Per favore 70 giorni 70 giorni Ok Se riusciamo a entrare a Dublino E cade a Dublino Cosa molto probabile Se L'Ondra non rompe le palle Potremo poi Costruire Il rocket site A Dublino Avere comunque Del supporto aereo Quindi potenziale Praticamente Irlanda E entrare da là E magari Provare a entrare Da questa zona Qui non entriamo sicuro Qua è praticamente impossibile Qua li hanno preso tutto Quindi in realtà Queste truppe qua Non servono neanche più Perché comunque L'Africa L'hanno conquistata tutto Cioè io comunque È una cosa che non capirò Mai del lì Cioè C'è da dire oggi Questo Perché Non Mieni qui In qualche modo Non ti equipaggi Per Menare In questa zona Idiota Che non sei altro Stai anche Continuando a perdere Navi Peggio di me Tanto manca 42 Quanto guadagniamo qua 0.3 Ok Buono Anche voi qui Ma perché sto Continuando a fare Sottomarini No Questi via Basta Sottomarini Questa del 36 Abbiamo un problema Con Con questo Andiamo subito Però a migliorare Ok C'è un po' Di resistenze Potremmo anche Ma non è che poi cambi molto Che in realtà mi aumenta Il battaglione No Questa mi serve Adesso Compriamo Unità Da Raiko Tra l'altro Gli Stadi Uniti Stanno ancora qui Sì Stanno ancora qui A soffrire Da trido Questi Stanno perdendo Tutte le unità Chi è poi Il presidente 14 giorni 14 giorni La risoluzione Dei conti Perché poi dovremo Ovviamente sviluppare Pesantemente L'Irlanda Se la prendiamo Una volta entrati Poi Con la nuca E la dovremo riuscire A tirare Ce n'ho due Eh perché infatti È che Non ci arrivo Mannaggia Non ci arrivo Lo massacro Veramente Ecco bravi va Andate a casa Come siamo messi Qua 67 Dai dai Non trovi Boom boom Questi vanno giù Mamma mia Dei piccoli Destroli Ci hanno massacrato Ok Qua abbiamo Quella pesante Andiamo così Non credo Che ce la faremo Mai Cioè Onestamente Penso proprio Di no Tutto perché Non ho il supporto Aereo Cioè L'alleanza Col Giappone Alla fine Mi ha aiutato Ma fino a un certo Punto Sperando poi Che mi intercettano Perché mi intercettano È un suicidio Roget Ok Che mi pare Che neanche con questa Adesso Infatti Guarda Non cambia Assolutamente Niente Vabbè Qualcuno è entrato Però Ok Uno su tre E dai Su Ok Proviamo Proviamo Lo mettiamo In Mamma mia Che finaccia Che faccio Farò una finaccia Pazzesca Scusa Non l'avevo appena Fatta L'avevo appena Fatto Cioè Vabbè Ok Ok Abbiamo quella Del 40 E E E Quale Allora no Queste mi servono Operative Aperte Beh Facciamo così Ne mettiamo Altri cinque Andiamo proprio A cazzo di cane Ragazzi Ottima Il che altro Non capisco Perché non mi fa Dicharare guerra Boh Vabbè Otto Potrei anche Fare una cosa Tattica Allora Potrei No Non ce la facciamo Dove Non so se ce la facciamo Ma Eh Pure qui Eh Mi sa che non riusciamo Ok Forse siamo passati Dai 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 che siamo passati No Non mi dire Non mi dire No Non siamo passati Contro gli irlandesi Non ci credo Stiamo tornando A casa Stiamo tornando A casa Niente Stiamo tornando A casa Abbiamo preso Gli schiaffi Pure dall'irlanda Com'è possibile Che abbiamo preso Gli schiaffi All'irlanda E allora C'è da girare Tutto qua C'è da girare Tutto Eh C'è da rifare Questo E vedere un po' Che si riesce a fare Rientriamo 60 divisioni Qualcuna passerà Cavolo Vorrei capire Perché abbiamo perso Onestamente Non ho capito Come cavolo Abbiamo perso Ah ecco Perfetto Dobbiamo aspettare Allora E magari Attacchiamo Tutte i punti Quante cavolo Di forze Ci avrai mai Eh Su A questo punto Facciamo questo Che ti manca a te Ok Ok Ma proviamo così Magari qualcuno Basta Aspettiamo Sì Altri Ottanta Giorni Ventiquattro Perché ci abbiamo Il cinque Ok Là ci abbiamo Il cinque Per cento Va bene Stiamo tirando Su Una flotta Veramente Condizioni Vietose Allora ragazzi Io Direi di Metto un attimino In pausa il video Aspetto che passano Questi giorni Così almeno Andiamo un po' Più rapidi Che vorrei almeno Prendere l'Irlanda In questa puntata Allora ragazzi È successa Una cosa Alquanto strana Praticamente Ve lo racconto Perché poi alla fine Io stavo conti Quando a parlare Ma avevo passato il video Per aspettare Ottanta giorni E mi ero Praticamente scordato Cos'è successo Io ho Sarchificato Un capitale di navi Qua ero arrivato Circa una quarantina Con tutta la roba Che stavo producendo Ok Tutta roba leggera Però Madonna Ero arrivato Praticamente a Circa una quarantina Di Di navi Ehm Cosa è successo Ehm Ho mandato In play Tutti i piani Che avevo E di conseguenza Scusate Metto in pausa E di conseguenza Lui Mi ha attaccato Con tutte Le mie divisioni Durante gli scheramenti navali Alcune sono andate Molto male Sono tornati indietro Ho perso parecchie navi Ma Praticamente Questi sono riusciti a passare Che non sono poi Altro che i giapponesi Poi io Ho spostato Questi qua Che avevano perso Sul fronte irlandese Le ho spostate di qua E quindi Sto cercando di entrare A Londra Da questa parte Ehm E diciamo Che le cose Stanno anche andando Perché Stiamo riuscendo Ad entrare Il problema Che le cose In Irlanda Invece Assolutamente No Però sono riuscito A passare Con questi Io credo Da come stanno andando Le cose Che loro Stanno combattendo Su tutti i fronti Marittimi Ok 30 30 Qua niente 8 Vabbè Qui non possono entrare 29 Qua 0 40 20 Quindi praticamente Hanno le forze schierate Su ogni Su ogni fronte Ecco perché Forse siamo riusciti A passare Ecco Se riusciamo a entrare Anche qui E' ottimo perché Li chiudiamo praticamente Alle spalle Che non sarebbe male Qua non ci abbiamo i carri Uno dei motivi Per cui non riusciamo A passare E' questo Ora Se io riuscissi A prendere qua Magari riesco A fare entrare Anche delle mie I miei aerei Magari questi E anche loro Almeno Almeno diamo un senso Anche a tutti questi aerei Che ci abbiamo Certo Non reggono il confronto Conti loro 25.000 Ma Le civili Eh no Adesso mi dispiace Ragazzi Le civili Non me le posso Cagare di pezza Guardate che roba Beh ragazzi Questo Questo sarà un episodio lungo Ma Ok Qua siamo entrati Anzi Sapete che vi dico Faremo due episodi Faremo due episodi Quindi questo Lo chiudo qui E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Io Sì Sì Mira Sì Grazie a tutti